Per sempre in volo è il titolo dell'iniziativa che si terrà domani sull'Etna per celebrare il decennale in memoria del campione mondiale di volo Angelo D'Arrigo. Un titolo emozionante scelto da Laura Mancuso, presidente della Fondazione Angelo D'Arrigo e moglie di Angelo che ha voluto fortemente questo momento. A promuovere l'iniziativa la Fondazione D'Arrigo, con la collaborazione del Parco dell'Etna, dell'area metropolitana di Catania, del comune di Nicolosi, della Funivia dell'Etna, del club alpino italiano e del aeroclub di Catania e di Comiso. Sarà articolato in nove ore, dense di appuntamenti. Si comincerà alle 9.30 con l'escursione guidata del Parco dell'Etna. Dalle 10.30 alle 16.30 ci sarà un raduno di parapendio, free climbing, mountain bike ed escursioni. Alle 13.30 toccherà i fratelli Napoli con i pupi siciliani. Alle 12.00 la cerimonia raggiungerà un momento toccante nel piazzale antistante La Funivia che sarà intitolato Largo Angelo D'Arrigo e lo svelamento della scultura realizzata dall'artista Luca Zuppelli. Alle 12.30 la liberazione di rapace a cura del Centro Recupero Fauna Selvatica, azienda Foreste De Maniali di Messina e l'Associazione Mediterranea per la Natura. Alle 17.00 la proiezione del documentario Nati per volare. Dalle 17.30 alle 18.30 ci sarà il concerto all'interno dei crateri silvestri a cura dell'ensemble Broken Consort. Infine alle 18.30 il suggestivo lancio di lanterne volanti ecosostenibili.